Anche per quest'anno la goletta verde di Lega Ambiente per le coste parchigiane conferma la criticità delle foci dei fiumi, canali e torrenti in tema di qualità dell'acqua del mare. In particolare per la zona del Fermano risulta inquinato il punto campionato alla foce del fiume Tenna a Porto Sant'Elpidio. Fortemente inquinata la foce del torrente Valle Oscura tra i comuni di Porto San Giorgio e Fermo di fronte al Grattacielo. I fiumi si confermano in generale fonte di inquinamento ma alla specificità del torrente Valle Oscura un piccolo corso d'acqua di circa 7 chilometri appare tragica per le conseguenze sulla salute dei cittadini. La storia si ripete, sono anni che nella zona insiste il divieto di balneazione senza che si sia mai lavorato per capirne le cause e per adottare i provvedimenti opportuni. Non si tratta del fiume Po ma di un piccolo torrente che accoglie nel tratto finale il depuratore dove confluiscono parte delle reti fognarie di Fermo e Porto San Giorgio, una struttura tecnica che di per sé non dovrebbe creare alcun problema. Allo stato attuale non sappiamo, fanno sapere da Lega Ambiente, se i comuni interessati abbiano studiato l'intera questione dal momento sorgivo alla foce, è il caso di dire, da potabile a non balneabile in 7 chilometri. Davvero difficile come traguardo. Si tratta di una questione importante per la salute dei cittadini tutti, locali e turisti, perché per l'habitat marino sistematicamente offeso dall'intervento umano, vorremmo conoscere con urgenza le iniziative prese o da prendere sul punto.